ciao amici ciao amiche e questo è un video brevissimo è soltanto una richiesta per favore iscrivetevi all'altro youtube che ho creato in modo che se mi chiudono questo c'è l'altro ma se non vi iscrivete tutti è inutile perché praticamente molti di voi mi perderanno il contatto perché non saprete più come trovarmi se non vi iscrivete l'altro canale si chiama la supercosmo teologia di maurizio fedeli alcuni video sono ripetuti con questo qui ma altri no quindi io vi pregherei tutti di iscrivervi tanto che mi costa iscriversi e basta fare un click di iscrivervi un canale così perlomeno non ci non ci perdiamo se ci teniamo a mantenere questa comunicazione è importante io metterò il link sotto questo video cercherò di metterlo anche nella vignetta che appare qui a fianco vediamo un po se mi riesce dovete soltanto cliccare iscriverti e accendere la campanellina logicamente perché è la campanellina accesa che vi permetterà di essere informati quando ci sarà nuovo video ok è questa avventura di spiegare le cose soltanto iniziata in breve ci saranno le cose veramente importanti grazie a tutti vi voglio bene a presto